Un incontro sindacale organizzato da CGL Cisle Will per coinvolgere lavoratori, politici locali e cittadini sul tema dell'annunciato accorpamento delle prefetture si è tenuto a Rovigo per approfondire quelle che potrebbero essere le conseguenze del provvedimento sul territorio polesano. Analoghe assemblee si sono svolte in altre città, sede delle 23 prefetture interessate dal provvedimento di legge che vedrebbe l'accorpamento all'interno di un piano di riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda Rovigo, ha spiegato il segretario generale Funzione pubblica della Cisle di Padova e Rovigo, Michele Roveron, non si tratta di un accorpamento, di fatto la prefettura di Rovigo verrebbe chiusa con il conseguente taglio del servizio sul territorio. A preoccupare i sindacati sono in particolare le sorti dei 55 lavoratori della prefettura di Rovigo. Il provvedimento potrebbe prevedere il loro trasferimento nella sede di Padova, la prefettura alla quale verrebbe accorpata quella rodigina. Questo, ha aggiunto il sindacalista, creerebbe evidenti disagi ai dipendenti, ma anche alla prefettura di Padova che rischierebbe il sovraffollamento degli uffici con spazi insufficienti ad ospitare tutti i lavoratori.